In quello che creo, oltre alla funzione, amo sempre dare qualcosa di più, qualcosa che attiri l'attenzione, che passi delle emozioni. Questa volta invece, più che far tra virgolette sognare, volevo che facesse pensare, riflettere su cosa fosse in grado di fare l'uomo, a quanto può essere crudele. E questo progetto è un urlo, è un grido di protesta verso tutto ciò.